Se la società deciderà di cambiare qualcosa da qui a breve, perché da adesso in poi io voglio i punti, io, la società, la città, i tifosi vogliono i punti, punti pieni, non sarà una persona sola a pagare, che siano essi giocatori o allenatore, ma se io deciderò domani di cambiare allenatore, sicuramente i giocatori che non hanno dato il massimo, a costo di pagarli lo stipendio per tutto l'anno li lascio in panchina e non li faccio più giocare, ok? Per cui qui o si vince in gruppo o si perdono tutti, non paga una persona sola.